Fare i puntati sulle stelle di cinema, televisione, giornalismo e teatro per la serata conclusiva della 48esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, che questa sera sarà trasmessa in diretta dal Teatro D'Annunzio di Pescara su Rete 8 a partire dalle ore 19.30. L'evento televisivo sarà condotto dalla collega Gigliola Edmondo e dal direttore Carmine Perantuono, che ieri sera, sempre sul palcoscenico del D'Annunzio, ha ritirato il Pegaso d'oro per il docufilm Gli occhi di Liborio, insieme al regista di Rete 8, Antonio Dottavio, e allo scrittore Remo Rapino, autore del romanzo vincitore del Premio Campiello 2020, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, nell'ambito della serata di premiazione della sezione Letteratura dei Premi Flaiano, trasmessa sempre in diretta su Rete 8. La cerimonia di premiazione, condotta da Lucio Valentini e Martina Riva, si è conclusa proprio con la proiezione del docufilm Gli occhi di Liborio, già trasmesso in anteprima nazionale sul Rete 8. Nato da un'idea del direttore Carmine Perantuono con la regia di Antonio Dottavio, il filmato è tratto dal romanzo dello scrittore Remo Rapino, tra i protagonisti del docufilm, realizzato in collaborazione con l'agenzia Scribo di Nicoletta e Giuseppina Fazio, con le riprese aerei di Alessandro Lanci e le musiche di Davide Cavuti. Abbiamo pensato di fare un percorso dentro la città, però senza mai nominarla. In fondo Liborio è un personaggio simbolico, che rappresenta un'umanità marginale, è uno che dà voce agli ultimi della fila, a quelli che non hanno voce. Quindi è un libro di, come dire, di porti aperti e non di muri che si alzano. È stata un'esperienza che è nata sulla scorta appunto del grande lavoro, che hanno fatto molti protagonisti della vita culturale abruzzese in un momento molto difficile per loro, quello del lockdown, quando non ci sono stati palchi, quando non c'è stata la possibilità degli spettacoli dal vivo. Si sono riuniti attorno all'idea dell'Agenzia Scribo di Lanciano nel leggere delle pagine e interpretare naturalmente le pagine di questo libro vincitore del Campiello, il caso letterario dell'anno. Alla fine questo materiale mi è arrivato in redazione e allora ho chiesto a Remo Rapino di abbracciare questa sfida. Ne è venuto fuori appunto questo risultato quasi flaianeo e chissà che forse questo aspetto non sia stato colto dalla giuria del flaiano nel attribuire questo riconoscimento a Reteotto che in un momento in cui il nostro lavoro è stato molto dedicato alla cronaca quotidiana perché non ci siamo fermati un giorno nel seguire l'Abruzzo e la pandemia in questi mesi difficili, invece si è dedicato grazie anche alla sensibilità del nostro presidente, del nostro amministratore delegato, insomma di chi ci ha dato fiducia a svolgere un ruolo diverso che è quello di agenzia di promozione culturale che anche una tv che dovrebbe essere tra virgolette solo commerciale invece avverta la responsabilità di svolgere per la sua comunità di riferimento. Per me è stato un onore e anche una responsabilità tradurre in immagini, rendere in un linguaggio cinematografico il capolavoro letterario di Remo Rapino e diciamo che il fulcro del nostro lavoro, di questo docufilm e soprattutto la cornice ambientale, letteraria. Congratulazioni! Grazie. Ieri sera è stata la volta anche dell'italianistica e della narrativa, con le tarne finaliste delle due categorie Under e Over 35, vinte rispettivamente da Maddalena Fingerle con Lingua Madre per l'edizione Italo-Svevo e Maria Pia Veladiano con il romanzo Adesso che sei qui, edito da Guanda. Il riconoscimento speciale alla carriera è stato assegnato a Walter Pedulla, giornalista, docente universitario, saggista, critico letterario e presidente della RAI. Non sono poi mancati momenti di commozione anche da parte della presidente dei premi Flaiano, Carla Tiboni, durante la consegna del premio alla moglie e alle tre figlie dell'ambasciatore Luca Tanasio, recentemente ucciso in un agguato in Congo. Questa sera toccherà invece ai big del cinema. Grande attesa per Monica Bellucci e Vincent Riotta, ai quali saranno segnati i Pegasodoro la carriera per la sezione cinema. Il divo di Hollywood, Jude Law, sarà invece presente con un video alla cerimonia di premiazione. Riconoscimenti tra gli altri anche ad Alessandro Gasman, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Gianluca Iodice, Andrea Cavalletto, Alex Infascelli. Per la sezione teatro i premi alla carriera saranno conferiti agli attori Remo Girone e Laura Marinoni. Per la sezione tv riconoscimenti a Gianluca Maria Tavarelli, Giordano Meacci, Francesca Serafini e Cristiana Capotondi. La sezione giornalismo vede premiati Bernardo Valli e Sigfrido Ranucci. L'appuntamento è dunque per questa sera a partire dalle 19.30 con la cerimonia di premiazione della 48esima edizione dei premi internazionali Flaiano in diretta sul Rete 8.